Ford sarà anche un marchio generalista ma qui a Ginevra pira fuori una vocazione sportiva davvero non comune. Porta bandiera è sicuramente la nuova Ford GT che arriverà sul mercato solo nel 2017 ma che qui già svela le sue forme davvero seducenti. Sotto il cofano avrà un motore V6 3.5 sovra diventato da oltre 600 cavalli ma sentiamo una panoramica su tutte le novità dal Domenico Chianese presidente e amministratore delegato di Ford Italia. Stiamo allo stand Ford a Ginevra uno stand dedicato esclusivamente alle Ford Performance abbiamo qua dietro di noi la Focus RS un'anteprima mondiale un motore quattro cilindri co-boost 2.3 da oltre 320 cavalli oggi disponibile anche con trazione integrale che è una novità per la Focus RS. Le Ford Performance continuano con un'anteprima europea la Ford GT questa supercar che è stata presentata all'inizio di quest'anno in America quindi un motore 3.5 6 cilindri ecoboost da oltre 600 cavalli. Tutto il tema di Ford a Ginevra è Innovation through Performance come l'innovazione e la tecnologia si possono declinare sul line up Ford e non solo con vetture estremamente performanti ma anche con Focus ST per esempio che per la prima volta disponibile con un motore 2.0 diesel a 180 cavalli per la prima volta su una Focus ST un motore diesel.